Se c'è un tema che nella provincia di Pesaro Urbino e in particolar modo nel comune di Vallefoglia sta tenendo banco da diverso tempo è quello legato al biodigestore. Tra l'essere d'accordo o meno sulla costruzione di un impianto anaerobico e compostaggio di rifiuti in un'area agricola di 12 ettari nella zona di Talacchio, occorre prima ribadire quali funzioni potrebbe avere questa struttura. Si tratta di un impianto di circa 40.000 metri quadri, presentato dall'azienda Green Factory, volto a trattare esclusivamente alcune tipologie di materiale. I rifiuti organici prodotti dalle abitazioni, bar e ristoranti come cibi ed alimenti raccolti in maniera differenziata e gli scarti da sfalci e potature derivanti da giardini privati e pubblici. La capacità massima di trattamento di questi rifiuti prevista per l'impianto è di circa 105.000 tonnellate all'anno, finalizzato a ridurre al minimo l'impatto ambientale. Sul territorio provinciale attualmente non esiste alcun impianto simile per la trasformazione e recupero di rifiuti, costringendo le aziende del settore ad esportare gli scarti differenziati in altre regioni, sottraendo al territorio risorse economiche importanti. Situazione che poi si ripercuote nelle bollette per imprese cittadini. Un progetto che non a tutti va a genio, come all'associazione Diversamente, che in questi anni ha raccolto più di 5.000 firme per segnalare, a detta loro, le preoccupanti ripercussioni che il digestore porterà all'ambiente. Un digestore che, secondo il gruppo, sarebbe sovradimensionato rispetto al proprio fabbisogno, portando con sé gravi ripercussioni alla salute dei cittadini. Sovradimensionalità che negli ultimi giorni ha attaccato anche il sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchielli, a seguito dell'approvazione recente di un altro biodigestore nel territorio di Fano. Proprio per questo, Ucchielli settimana scorsa ha spedito a Marche Multiservizi una lettera per rivedere il progetto che sorgerebbe a fianco della zona industriale di Talacchio. Si sono persi 5 o 6 anni, era collocato a Fano, votato alla conferenza dell'autonomia all'unanimità e quindi si evitava anche di avere un altro impianto privato. Una volta autorizzato l'altro impianto privato va ridiscussa la dimensione, vanno fatte tutte le opere per la sicurezza, la viabilità, la mobilità e diversamente il nostro parere sarà a parere contrario. È chiaro che l'interlocuzione deve essere un'interlocuzione seria, affidabile e che si facciano le cose come vanno fatte, nella piena tutela della salute dei cittadini, nella tutela dell'ambiente, nella sicurezza e nella mobilità di tutto quanto serve in una comunità. Quindi questo è il senso di quella lettera condivisa dalla Giunta e quindi speriamo che ci sia questa disponibilità a fare le cose come vanno fatte e diversamente non si fanno.